Appena uscito da Pillish St. Karest, Blinky per gli amici, tra l'altro mi hanno guardato come se avessi la targa a maffe, inziché Italia, l'hanno visto, boh, un straniero negli ultimi trent'anni. Ok, niente, la strada è quella che va verso la Slovacchia, appunto. Volevo riprendere anche questo spazio. Qui siamo sulla strada che va da St. Karest a Espergom, che è l'ultimo paese dell'Ungheria prima della Slovacchia. Sono separati dal Danubio, due paesi. Boh, andiamo a vedere, vado a fare un caffè slovacco, vediamo come lo fanno.